Pazzesco Sidner. Hai visto? Ho visto e rivisto. Mamma mia, ma poi che resistenza, cioè io non faccio due piani di scale e sono già stravata. Ma che maturità. E' stato anche fortunato. Ma che fortunato. E' stato bravo ma le azzeccate proprio tutto. Ma non c'entra niente. La fortuna c'entra. E' stato bravo, punto e basta. E dopo due set persi così ci vuole un carattere. Sì, ma anche l'altro era bravo. Non è che non fosse bravo. Niente, scherzavo perché poi ogni tanto io pesto qualcosa che non devo pestare. Allora, eccoci qua. Perché non vai a farti un giro anche tu a visitare lo stabilimento della Pasta Rumbo come ha fatto Salvini questa settimana? Hai visto che merdone che è scoppiato? Eh, ho visto. Pazzesco. Come dicevo la scorsa settimana, un giorno sì, un giorno no, parte l'etamaio. Sì. Comunque, Salvini è andato allo stabilimento della Pasta Rumbo a Benevento. Non si capisce come mai? Come mai? Non lo so. Sono stato invitato. Cosa c'è in comune tra le infrastrutture e la Pasta Rumbo? Ci penso. Che sono le interlavorazioni. Rispondo a questo dopo. Entrambe. Insomma, e tutti si sono arrabbiati con questa della Pasta perché hanno detto, eh ma no, ma come mai? Allora io volevo spezzare una lancia, uno spaghetto a favore della Pasta Rumbo che peraltro è anche buona. Ci mette tanto tempo a cuocere ma è buonissima. Buonissima, conferma. Allora, se loro ti dicono, scusi, vorrebbe venire a visitare lo stabilimento Matteo Salvini, te cosa dici? Con piacere. Eh, non puoi dire di no. Cioè, se a me citofonasse Salvini e dicesse, sono Matteo Salvini, posso salire? Io cosa dovrei dire? No. Io direi no. Ma io non sono uno stabilimento, sono una fabbrica di cazzate, un'altra roba. C'è un lavoratore autonomo, soprattutto. Esatto, esatto. No, ma perché poi Salvini tutte le volte che va in un posto fa danno, cioè non è un influencer, è un disinfluencer. Cioè si avvicina a un marchio, lo sminchia tutte le volte. Cioè andasse in Cina, in una risaia, i cinesi comincerebbero a mangiare polenta perché è quell'effetto lì che fa. Comunque, vediamo il video di lui nello stabilimento. Volentieri. Il profumo non vi arriva, però alla faccia di quelli che vogliono la farina di insetti, i vermi, i grilli, le cavallette, a quelli che a Bruxelles combattono la dieta mediterranea, viva la nostra pasta. Qua fanno, pastificio rumo, 800.000 confezioni di pasta ed è una cosa straordinaria al giorno. Viva l'Italia, viva la nostra qualità. Ecco, allora, intanto il cappello da ostetrica... Eh beh, l'alimentare è obbligatorio, l'alimentare è obbligatorio, la confietta. Però che siamo a carnevale, ma sei pur sempre un ministro. No, non si può, non si può. Se vai dove si produce devi avere il cappello. Ma poi, soprattutto, che cosa te ne frega a te della farina di insetto? Sei mica il ministro dell'agricoltura, sei il ministro del trasporto. Lascia che si occupi della farina degli insetti il ministro dell'agricoltura, che è il cognatone. Lolo, Lolo Brigida, che peraltro, dov'era questa settimana? Dov'era? A Cap Canaveral, vediamolo. Il colonnello Villadei rappresenta il colore azzurro nello spazio, in questa missione, pilotando il razzo. Per noi è motivo d'orgoglio. La quarantena, i nostri astronauti l'hanno svolta con il sorriso sulle labbra, perché hanno mangiato sempre e solo prodotti italiani, cucina italiana. Sentendo ieri Walter Villadei mi raccontava che aspettavano il pranzo e la cena con entusiasmo e paradossalmente anche di entrare in quarantena. Non era mai accaduto, anche nelle sue esperienze precedenti. E in ultimo parte anche la nostra pasta. Per la prima volta cuciniamo la pasta. Tutto sulla pasta, capisci? Uno era tra i fusilli, l'altro tra i missili e non si spiega. Ma che uno dice, ma cosa ci fa Cap Canaveral? Non è mica un astronauta. E perché c'era il lancio di questo missile e anche tutto questo progetto... Il nostro astronauta. Sì, esatto. Cioè praticamente ci saranno i capellini in brodo, quelli che lui si è trapiantato, verranno sparati direttamente nello spazio. Oh, ma non ce n'è uno al posto giusto. Ma uno! Uno! È uno da una parte, l'altro dall'altra. Ma togliamo tutti questi ministeri, ne facciamo solo uno. Il ministero del faccio che minchia voglio, vanno in giro per il mondo, di qua, di là. Uno è pasta. E basta! Cioè adesso se... Uno è pasta, certo, bellissima, bravo. Bravissimo, eh. No, adesso secondo me se Amadeus chiama Crosetto a fare il balletto a Sanremo, lui ci va. Cioè, Salvini non ha ancora capito che fare il ministro dei trasporti non significa essere trasportato in giro, significa occuparsi per esempio del contratto dei lavoratori dei trasporti che ogni due per tre scioprano e diventiamo tutti matti. Non so, dovrebbe farsi una gita sull'alta velocità e vedere a un certo punto che cosa sta succedendo. Perché i treni hanno talmente tanto ritardo che coincidono con quelli della mattina dopo. Perché non prende un aereo con i siciliani o i sardi che ogni Natale e Pasqua per andare a trovare la famiglia devono spendere un sacco di soldi e devono prenotare adesso ma per Natale 2030. Perché non si occupa dei treni locali che altro che i 30 all'ora, magari andassero i 30 all'ora. E poi tutti dovrebbero preoccuparsi anche di cose pratiche, secondo me. Cosa ti abbottoni? Non riesco più ad abbottonare. Vieni, vieni vicino. No, no, tu fai le cose tue. Togliti la cravatta allora. Sì, permetti. Eh, sì, certo. Ti disturba. Puoi anche sbottonarti i pantaloni, eh, già che ci sei. Perché prima fa tutto in punta di forchette, e poi arrivo io sbraca. Eccolo. No, in realtà lo faccio per respirare perché è difficile condensare accanto. Ah, invece con bala e ornella. No, io dicevo che secondo me i nostri politici dovrebbero occuparsi, in qualche modo, di una cosa, di una parte delle infrastrutture che sono i bagni pubblici. è una cosa che mi sta veramente a cuore di cui volevo parlare perché veramente siamo gli unici in Europa in questa condizione allucinante hai visto il film di Vendors? ho visto il film di Vendors no, Perfect Days sui bagni pubblici di Tokyo no, non è che sui bagni il protagonista è uno che va a pulire i bagni pubblici di Tokyo un film dei più belli mai visto pieno di grazia, bellissimo, meraviglioso e quindi ho visto tutti i bagni di Tokyo e mi sono innamorata e ho pensato ma da noi ma da quant'è che non si occupano dei bagni pubblici ma ancora da Vespasiano cioè tu hai visto il film e ti è venuto in mente ho detto sì ho sentito un'invidia grande e allora sono andata a studiare tutta la storia dei Vespasiani allora adesso te la spiega mi fai fare un po' di Aldo Cazzullo? voglio fare un attimo di cazzullata di cazzulliade anche più piano caro Aldo chiedo scusa no ma Aldo è spatico allora praticamente nell'antica Roma c'erano un sacco di bagni pubblici ed erano così si faceva la pipì tutti insieme in allegria non c'era problema della privacy ecco come vedi io avrei messo magari qualche finestra in più magari ecco non sarei andato nei bagni pubblici proprio nell'ora di punta ecco e come vedi poi al centro c'erano due vasche per sciacquarsi in allegria tutti insieme le donne non erano contemplate si vede che nell'antica Roma noi non facevamo niente eravamo a tenuta stagna i maschi già facevano la pipì da seduti già allora già nell'antica Roma erano stanchi i maschi brandivano lo scopino che adesso non sappiamo neanche che fine abbia fatto perché ci sono degli scopini che sono degli schifii pazzeschi ed erano in più un tempo la pipì l'urina era molto preziosa preziosa per chi? perché le lavanderie prendevano l'urina l'ammoniaca dalla pipì e facevano e la usavano per lavare i panni e per sbiancarli con la pipì pensa che profumo pensa che coccolino ai fiori di tiarè che doveva essere cioè fiori di zagara proprio e c'erano proprio delle persone che andavano a raccogliere la pipì nei bagni pubblici e la portavano nelle lavanderie Alberto Angela sta rischiando tantissimo allora Vespasiano che non era un cretino ha detto ma sai che c'è? io metto una tassa sulla pipì e così ha fatto e quindi questi bagni pubblici si sono chiamati Vespasiani ok? vi devo interrogare avete capito allora no ma perché è una storia appassionante molto il figlio Tito il figlio di Vespasiano però non era tanto d'accordo perché diceva papà ma ti sputtani così adesso proprio in latino sputtanarum perfetto ti fai una brutta figura no? però lui è andato dritto per la sua strada un giorno Tito va dal padre non è una favola di cappuccetto rosso un giorno Tito va dal suo papà ho bisogno di soldi mi dai dei soldi allora Vespasiano prende un sacchetto mette dentro le molette e dice vedi questi soldi derivano tutti dalla pipì poi cosa fa apre il sacchetto annusa e dice pecunia non ho let la famosa frase il denaro non puzza capisci viene dalla piscia ma non puzza ecco fatto eh non è una bella storia comunque adesso puoi sai cos'è che non mi ricordo dove siamo partiti siamo partiti dalle lavanderie e da coccolino al cocco e dalla coccurina dalla pasta dalla pasta allora vediamo invece i Vespasiani che ci sono stati fino a qualche anno fa da noi giustamente la parola della pasta a ragione Fiorelli ci sono tantissime persone che lavorano che ci lavorano assolutamente ma infatti facciargli scemi a boicottare cose no ma certo comunque era stato tanto rumore per nulla tanto rumore per nulla perché poi vabbè no dicevo tornando ai Vespasiani erano così non erano bellissimi erano di cementone dei trumoni pazzeschi però tu sapevi che erano una salvezza sapevi che dovevi arrivare a Torino per esempio vicino a casa mia fino a Ponte Isabella e sapevi che poi lì potevi liberarti diciamo tu entravi potevi andare a destra a sinistra non potevi sbagliati c'erano due buchi e boh le donne già lì non potevano tanto fare perché gli usciva mezzo culo dal Vespasiano adesso hanno tolto tutti questi Vespasiani non ce n'è più uno quindi se a te scappa la pipì devi per forza andare in un bar ma se per esempio soffri di prostata tipo te no? no io lo so ma perché io no? allora tipo Re Carlo ecco ecco così alla fine gli si svelina anche il cuore si insomma si diventa molto nervoso alla sera alla fine no e io devo dire che sono veramente dalla parte dei baristi ma poveri baristi ma perché ogni due per tre devono pulire i bagni per forse un caffè ma il problema dei gabinetti pubblici è un problema che deve risolvere il comune è il comune che deve stare vicino al cittadino nel momento del bisogno eh anche perché allora o la facciamo in giro ma non siamo un cocker oppure succede questo guarda che cosa è successo vicino a Prescia fa pipì in strada su marciapiedi 50 anni è sorpreso dalla polizia multa da 3.300 euro ma cioè neanche lo champagne millesime al centilitro atti contrarie alla pubblica decenza eh ho capito sì per carità ma 3.300 euro se avesse fatto altro di qualcosa di più consistente cosa faceva gli davano l'ergastolo a sto uomo poi io capisco la puzza la puzza ci mancherebbe però tu mi devi dare un'alternativa perché se no mi esplode la vescica ma ormai non ci sono più da nessuna parte no non è vero perché adesso ti dico a Londra ci sono 2.600 bagni pubblici li hai contati? no ho i dati a Parigi 435 a New York 1200 a Roma 70 di cui funzionanti appena 36 e invece a Milano 49 vabbè noi ci teniamo tutto dentro è un popolo più poi gli vendono gli occhi gialli però è Milano è City Light è la città della moda è la città del design e poi dopo quando devi andare a fare pipì non c'è neanche un bagno pubblico bisognerebbe inventarsi di bagni pubblici e fare la Milano Pission Week per esempio scusami e lo dico soprattutto per i maschi perché per le femmine è una guerra persa ma vediamo un bagno pubblico a Milano vediamolo ecco guarda che roba è che cos'è altro che bosco verticale è un bunker della seconda guerra mondiale cioè è un silos di batteri tu entri lì dentro e c'è la signora Escherichia Colin in persona che ti dice buonasera è come ero così freddi vediamo a Roma ecco a Roma anche tutto insomma graffitato vedi vicino c'è la bottiglia della birra come dire se bevi la birra poi non si capisce neanche bene come fai ad entrare se tu entri là dentro ti prendi praticamente se ti va bene la tisi e fai la fine della signora delle camere ma secondo me se chiedi ai burlioni lì dentro troverebbero dei virus che lui non sa neanche che cosa siano sconosciuti devi entrare dentro con 20 mascherini nuovi virus ma guardate in Inghilterra come sono i bagni pubblici guarda cioè che roba è che classe molto elegante che stile che jaguar verde inglese verde inglese cioè se lo mettessero a Milano gli studenti fuori sede ci andrebbero ad abitare lì dentro ma sono meravigliosi io la userei come casa di campagna poi ci sono anche in Inghilterra i bagni più shue shue quelli proprio più volanti quelli un po' così veloci questi qua li mettono dove ci sono le partite di calcio gli eventi eccetera che sono un misto tra una fascia di quelle massaggianti e il balconcino di Giulietta ma guarda il bambino come li guarda ma lo credo scusa poi lì puoi fare soltanto la pipì e le donne non sono contemplate perché il pipismo in piedi noi non possiamo farlo e poi puoi fare solo quello perché il resto o sei un cavallo vediamo a Parigi che erano tutti scassati adesso li hanno rifatti tutti hanno fatto questi che si chiamano sanisette che sono di design autoriscaldati usano l'acqua piovana autopulenti e poi soprattutto c'è la musica ambient manca solo Letizia Castà che ti porge la carta igienica così ma vediamo a Tokyo in Giappone vediamo il Giappone la meraviglia guarda che roba meravigliosa ma non sembra un'astronave ma non hai voglia ti viene per entrare lì dentro cioè proprio devi prenotare ma sembra l'inizio di una serie di Netflix guarda quelli di notte che si accendono e si illuminano guarda che meraviglia cioè sembra una lounge del Twiga ma perché noi non possiamo con un po' di soldi del PNRR che non sappiamo mai dove metterli occuparci dei bagni pubblici io so già che c'è gente che dice sì poi arriva la gente le spacca le rovina i band le guastano ho capito però guastano anche le panchine dei parchi guastano anche le fermate dei pullman guastano i pullman però li facciamo lo stesso dobbiamo imparare e autoeducarci quindi Ellie un messaggio a Ellie Schlein che c'entra lei? fai qualcosa di sinistra occupati dei cessi parti dal basso ti prego fallo per noi è la cosa più democratica che c'è fallo per tutti i cittadini siamo un paese turistico open tu meraviglia cosa cosa meraviglia che cosa dai ti prego ma siamo un mondo di pazzi ma secondo me detto da te è una cosa no il governo darebbe carta bianca carta bianca è doppio velo secondo me dicevo siamo un mondo di pazzi perché non so se hai visto cosa è successo a Monza alla consigliera regionale del PD di Monza no non lo so Francesca dell'Aquila che si chiama dell'Aquila ma fa Monza la consigliera ho capito no perché queste sono le battute che piacciono ho fatto finta di non coglierla pensa che bravo allora come capita spesso a noi donne ostinate che vogliamo fare un bambino e poi contemporaneamente lavorare la consigliera del PD di Monza voleva praticamente continuare a partecipare alle sedute del consiglio comunale da remoto cioè sul computer collegandosi con zoom da remoto lo so cosa vuol dire no magari a casa ci sono delle persone ma chi a casa sanno tutti che ci guardano da remoto per esempio comunque allora praticamente però il consiglio comunale gli ha detto non è previsto nel regolamento e lei giustamente ha detto vabbè allora cambiamo il regolamento ma non solo per le mamme anche per i papà e loro hanno detto sì però possiamo cambiare una bella idea però ci vuole almeno un anno un anno adesso bambino ha quattro mesi è un po' tantone no tra l'altro a Torino a Genova sono riusciti a farlo solo con un ordine del giorno allora la motivazione qual è perché praticamente l'apparato tecnico del comune di Monza è un po' antico un po' obsoleto e molto artigianale che non si è capito perché artigianale cosa voglio dire se hanno i modem di frassino scolpiti a mano non si capisce se ci sono il navaio che fanno i segnali di fumo non si capisce gli hanno detto giustamente anche attrezziamo una sala per l'allattamento sì però un bimbo di quattro mesi è complicato non tutti sanno che come dice la settimana è in mistica che devi portarti dietro un sacco di cose quindi alla fine che cosa è successo dopo tutte le geremia di che ci fanno sulle appunto le culle vuote e quanto lo Stato sostiene fare un figlio rimane per una donna un ostacolo un blocco alla carriera non c'è niente da fare quindi la povera Francesca si è dimessa in politica non si dimette mai nessuno niente quelli che fanno i furti bancarotta fraudolenta arriva la Digos portarle via loro invocano l'immunità parlamentare e lei invece si è dimessa quindi questo per dire che siamo ancora lì cioè che tutte queste campagne per fare figli la bassa natalità e bla 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 poi ti scontri ma lei che lei insomma stiamo parlando di un consiglio comunale ma succede anche a tutte le donne alle donne che hanno anche incarichi più modesti magari e quindi io ho fatto un decalogo destinato proprio ai datori di lavoro avrei potuto dire anche dattrici di lavoro ma mi rivolgo solo ad esseri che esistono veramente in Italia allora c'è la musica c'è una musichina io aspetto ormai ogni settimana aspetto la musichina allora se come dice il governo bisogna aumentare la natalità allora bisogna fare più figli aumentare la natalità senza donne che partoriscono e un po' come aumentare la natura cementificando la maternità è un fenomeno naturale che avviene più o meno da Eva in poi quindi se una donna viene da te e dice aspetto un bambino è normale se una donna viene da te e dice mi spunteranno le ali da drago e volerò è un'eccezione anche l'amministratore delegato ha avuto una mamma e quindi dovrebbe capire la situazione a meno che non sia nato sbucando dall'addome come alien il che giustificherebbe in parte il suo carattere se gli uomini partorissero sarebbe presente un'ostetrica di fianco a ogni macchinetta del caffè e un ostagista pronto col motorino per le voglie improvvise di fragola gelato yogurt melanzana e tortillas una donna che è un bambino vive una condizione complicata che la tecnologia può in parte colmare videochiamate mail call soprattutto se lavora nel consiglio comunale e non guida uno schiacciasassi o non pota le sequoie se l'amministratore delegato comunica solo col telegrafo di Marconi o con i tamburi come gli sciamani giapponesi non è un problema della donna la donna con la maternità ha meno tempo per il lavoro è ovvio ma questo non significa che l'uomo che lunedì passa 5 ore su 8 sui voti del fantacalcio sia concentrato al 100% una donna che ritorna al suo posto di lavoro dopo aver partorito deve tornare e non essere demansionata deve fare quello che faceva prima perché è la stessa di prima con il parto cambia un po' il suo fisico non il numero dei suoi neuroni se Ermeloni può fare il premier e forse l'europarlamentare ed essere un'ottima mamma perché non può farlo una consigliera del PD di Monza e per chiudere invece una piccola notizia tenera vi faccio vedere questa foto che me la manda il mio amico Fiorenzo dal Giappone lui era sulla metro di Tokyo e ha fotografato questo zainetto di questa ragazza con questo badge dove si vede una mamma e un testolino di un bambino e c'è scritto c'è un bambino nella mia pancia in giapponese e questo badge serve a segnalare a tutti i passeggeri della metro che bisogna fare un po' di attenzione perché quando uno aspetta un bambino fino al quarto quinto mese sesto mese non si vede anche coi giacconi e quindi la cosa importante è non essere schiacciati spintonati strattonati e magari qualcuno si può anche alzare e lasciare il posto a sedere da noi c'era nelle macchine bimbo a bordo e quindi lo dico anche a tutte le ragazze che avete un bimbo in pancia e correte avanti indietro su una metro per andare a lavorare o studiare se si comincia a rispettarle da subito le future mamme poi magari è più facile non costringerle a dimettersi bravissima tra l'altro che Luciana sapesse il giapponese non lo proprio potevo immaginare è il mio amico Fiorenzo che me l'ha mandato ah scusa Luciana Littizzetto no 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 te lo lascio come souvenir porcaccia miseria ma lo sapete guarda lo guarda lo sapete che Luciana a parte quanto è brava lo sappiamo tutti ma è il momento più atteso della televisione italiana è della televisione mondiale ogni settimana c'è il momento più atteso che è la nostra star la nostra Lucianina Littizzetto adesso pubblicità poi abbiamo questo Burioni e poi abbiamo Leao abbiamo Raffanea Leao guarda qua i milanisti contenti interisti mi raccomando e ci divertiamo un sacco e poi il nostro tavolo la ferata la serata finisce fra quattro ore pubblicità se va avanti così non finisce la ferata si finisce purtroppo communications non finisce la ferata